Salve a tutti! Eccoci qua di fronte al mio altare per l'equinozio, che è un po' forse eccessivamente dorato per essere l'equinozio, però ce lo facciamo andare bene lo stesso. Avevo veramente poche cose in arancione, quindi ho detto va bene così, ce lo facciamo andare bene così. E oggi volevo parlarvi di quanto sia importante avere un altare stagionale. Che cos'è l'altare stagionale? L'altare stagionale è un altare dedicato a una stagione, nel senso che appunto anche la parola dice altare stagionale. Non ha molto molto senso fare tutto questo preambolo, però l'altare stagionale è un altare che cambia a seconda della stagione corrente. Ecco, questa è la definizione forse più giusta, perdonatemi, mi perdo via tra l'inglese e l'italiano ormai. Ho iniziato con gli altare stagionali quando ho cominciato il training l'anno scorso e non credevo quanto impatto positivo potessi avere sulla mia vita e sulla concezione dello specifico momento dell'anno. E' bellissimo avere un altare, diciamo, fisso, un altare che non cambia, un altare che è sempre lì, un altare che può crescere e che può cambiare a seconda di quanto cambiamo noi. Però, allo stesso tempo, ho capito quest'anno quanto è bello avere un altare che cambia a seconda delle stagioni, che possiamo colorare, possiamo decorare, possiamo renderlo unico a seconda della stagione che cambia. Possiamo cambiare colori, possiamo semplicemente cambiare le decorazioni oppure possiamo anche metterci anche soltanto le nostre intenzioni o stampare una fotografia che ci ricorda più precisamente quel momento dell'anno. Non è detto che bisogna avere per forza degli altari giganti o degli altari con mille statue diverse o con 350 tipi di colori diversi, con le candele, senza candele, cristalli. Questa è una cosa che appunto va un po' diciamo alla base del discorso altare. L'altare è lo specchio del praticante, l'altare è quel luogo sacro che nessuno può violare, che è vostro e dove focalizzate l'attenzione, dove focalizzate il vostro lavoro con il divino e che diventa automaticamente sacro per voi. Perché è vostro, perché è il vostro momento di connessione con la divinità. Quindi può essere piccolo, può essere grande, può essere colorato, può essere non colorato, può essere con stato e senza stato e questa è una cosa che veramente va a completa discrezione vostra. Però a maggior ragione che si segue la ruota dell'anno, che si segue il cammino della Dea o comunque che si vive il cammino stagionale, penso sia una cosa meravigliosa avere l'altare stagionale legato alla stagione corrente. Io in questo caso appunto come potete vedere non è tanto, perché il colore appunto di Mabon è l'arancione, il marrone, tutti i colori della terra diciamo. Io non avevo tanta roba arancione, quindi ho lasciato appunto questo che è un aranciato, poi c'ho la Deina là che è praticamente di terra. Poi ho voluto lasciare le due candele perché per me ispirano terra e per questo momento dell'anno penso sia proprio il momento dell'anno più giusto per riconnettersi alla terra. E poi c'ho quella che è la ruota dell'anno di Wendy Andrews che ho girato al momento appunto di Bamba, che è la madre Terra, è una dea irlandese, è una delle madri ancestrali irlandesi, che è legata appunto alla Terra. E poi c'ho la mia solita statua della dea, della signora di Avalon al centro. Quello che vedete là è il mio bastone che ho creato per, non vedete niente, che ho creato per la dedicazione, c'è una luna su. Però perché è importante cambiare i colori, cambiare le decorazioni, rinfrescare l'altare, mettiamolo così? Perché credo sia un ottimo modo per connettersi con le vibrazioni di quel momento specifico. Prima di cominciare questo percorso che ho cominciato l'anno scorso, non avevo capito bene quanto meraviglioso... Io sono un amante dei colori, chi mi conosce bene lo sa, io sono molto colorata come persona. Adoro l'eccessivo colore, l'eccessività nei colori, la stramberia. Adoro questo tipo di cose qua. Quindi l'idea di lavorare con i colori mi ha sempre affascinato, però non sono mai riuscita effettivamente a capire bene come integrarli alla mia pratica personale. E non avevo ben idea di quanto effettivamente il colore potesse influenzare gli stati d'animo, influenzare la vibrazione di quel colore. Proprio sul cervello umano, quanto effettivamente abbia un'importanza fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la pratica. E quindi, siccome questo percorso valoniano almeno è veramente legato ai diversi colori, a veramente tanto, 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 tanto... Abbiamo iniziato a fare l'altare stagionale e cambiare l'altare a seconda delle stagioni. E io penso che sia, a parte che verrà eccessivamente terapeutico, nel senso che è bellissimo il fatto di poter cambiare l'altare ogni festività, è qualcosa di eccezionale. Ma poi, quanto un colore possa influenzare in maniera positiva appunto la psicologia, lo stato d'animo, ti aiuta davvero a entrare in uno stato differente che se non ci fosse. Quindi, volevo appunto prendere, diciamo, avere l'occasione per farvi vedere l'altare che in realtà ho leggermente modificato per questa volta. Non l'ho modificato tanto perché, a parte che volevo tenere le idee madri che sono un po' appunto le deone che fanno parte della mia vita in questo momento. Ma poi, era già abbastanza aranciato, quindi va bene così. Però, mi invito davvero anche semplicemente ad accendere una candela del colore corrispondente della stagione. Anche una cosa così, avere un piatto e metterci su una candela a seconda del momento dell'anno. Poter prendere, non lo so, in questo caso potresti usare delle pigne, della frutta secca, delle mele. Le mele sono la decorazione migliore per questo secondo raccolto dell'anno. Quindi, anche semplicemente, appunto, avere i frutti della terra sull'altare, che può essere un altare fatto di candela, un altare con le statue, o semplicemente anche una piccola parte in una libreria, se non potete avere un altare perché magari, che ne so, a casa fanno problemi o altro. Quindi, non deve, ogni altare ha una propria forma. E soprattutto, io credo che la cosa più importante è che l'altare abbia un'identità data da noi. Quindi, non deve essere per forza un altare enorme, può essere semplicemente un piccolo tavolino senza niente sopra, ma se noi sappiamo che quello per noi è il nostro altare, è il nostro altare. E magari qualcun altro non andrebbe mai a sospettare che in realtà quello è un altare. Quindi, queste sono tutte piccole accortenze che potete fare, eventualmente avete problemi a tenere altari in casa, che magari è ancora un po' un tabù. Quindi, potete metterci immagini stampate. Io al momento non ho effettivamente niente per questa stagione, a parte la ruota di Wendy. Di solito stampo un'immagine presa da internet e la tengo all'altro lato, diciamo, per bilanciare un po'. Però quest'anno, devo in realtà avercela, forse quella dell'anno scorso, devo essere da qualche parte, devo controllare. Però io ho anche queste immagini qua, di solito, questa per esempio è quella che io inserisco per Beltane. E quindi tutte queste immagini così sono... vediamo se ce ne ho altre. Ah, eccola qua, ce l'ho quella là di... perfetto, vedete? Questa è quella là che di solito io metto per Mabon. Non credevo di avercela, perché poi col traslogo mi sono persa via. E quindi eccola qua. Però vedete, tutte queste piccole accortenze veramente ci cambiano la nostra, diciamo, percezione dell'altare. Cambiano completamente tutto quello che sentiamo. Quindi penso sia veramente un ottimo modo per vivere questa cosa. E quindi io niente, vi lascio un bacio dal mio altare di questa stagione dell'equinozio di autunno. Vi lascio un bacione e ci vediamo prestissimo. Grazie a tutti.